E' tutto pronto, questa sera dalle 22 nei pressi della Chiesa Madre avrà inizio la decima edizione del Festival del Golfo, la cremessa canora molto attesa e promossa dall'associazione Sival Sul Musica di Catana Lorefige e Daniela Venosta, un appuntamento tradizionale che si inserisce nei vestigiamenti della patrona Maria Santissima Dallemanna. L'intera manifestazione andrà in diretta sulla nostra emittente, sul palco tanti cantanti. Quest'anno la novità interessa i presentatori, ci saranno Emanuele Rubio e Consuero Lishandra. I cantanti si esibiranno accompagnati da musicisti che suoneranno dal vivo. Il Corriere di Gera, il settimanale ideato e diretto da Rocco Cerro, come per tutte le passate edizioni, sarà media partner e come ogni anno assegnerà un premio speciale della stampa. Le novità importanti sono, intanto, la più grande orchestra che abbiamo avuto negli anni. Abbiamo 25 elementi d'orchestra, sezioni archi, sezioni fiati, molto ricche. Infatti la musica deve essere la protagonista di questo festival. Abbiamo cambiato i presentatori, abbiamo una coppia nuova, quindi stiamo voltando completamente pagina. Diciamo che anche i cantanti c'è un livello altissimo quest'anno, forse più alto da quando è nato il festival. E chi sono i due nuovi presentatori? I due nuovi presentatori sono due facce nuove per Gera, da questo punto di vista, Emanuele Ruvio e Consuelo Lishantra. Ricordiamo lo start alle ore 22. Lo start alle ore 22 è preciso, però finiremo puntualmente alle 12 e mezza, quindi non ci sarà pericolo di fare notte fonda. Non avremo tempi morti, per cui la gente si divertirà sicuramente. Diciamo che se non piove sarà un grandissimo festival. E anche quest'anno c'è la diretta televisiva su Canale 10? C'è la diretta su Canale 10 televisiva e anche in streaming andremo in diretta sempre su TG10. E c'è anche il premio della critica consegnato con ogni anno dal Corriere di Gela? Sì, c'è il premio della stamba, sarà consegnato da Rocco Cerro, direttore del Corriere di Gela, ma la giuria sarà composta ovviamente da giornalisti locali molto qualificati. Hai studiato tanto in questi giorni per allestire il tutto, per organizzare la decima edizione? No, diciamo che quest'anno ho lavorato meno degli altri anni, perché ho lasciato più spazio alla musica e ai veri protagonisti della canzone. Ricordiamo dunque, non prendete impegni, mercoledì 7 alle ore 22. Mercoledì 7 alla vigilia della festa della Madonna, accanto alla Chiesa Madre. Questo accanto alla Chiesa Madre ha creato parecchie polemiche su Facebook, ma è il modo migliore secondo me per fare capire alla gente che noi saremo a fianco della Chiesa Madre, in quella piazza di cui nessuno conosce il nome.